Tese la mano e lo toccò. Toccare il lebroso significa infrangere la legge e nel caso di contagio entrare nel girone oscuro degli esclusi e dei maledetti. Nel dito di Gesù che tocca la carne malata del lebroso c'è la forza invincibile dell'amore di Dio che supera ogni distanza e si lascia contagiare dal nostro male per contagiarci con la sua carità. Che tu possa essere il dito di Dio oggi e la sua benedizione passi attraverso il coraggio della tua carità. Grazie a tutti.